Ragazzi benvenuti e bentornati su Dragon Ball Raging Blast 2. Andiamo subito nella modalità galassia per continuarla appunto e iniziare con la saga degli androidi a questo punto con C16, C17 e C18. Andiamo. Allora sconfiggi tutti i nemici. Subito. E si comincia. Con C16 che è veramente un gran bel personaggio. La saga degli androidi ha davvero tanti bei personaggi. Peccato perché la saga in sé non è che sia proprio tutto sto granchè, ci sono un po' di problemini. Vediamo fra tutti la qualità di alcuni disegni, di alcuni keyframe che sono veramente orridi. Stardo. Vabbè, la trama è praticamente uguale a quella di Terminator. Scusate. Voleva essere un omaggio, si sommaggiano da parte di Toriyama, che spesso ha esternato la sua passione per la saga di Terminator, anche nella prima saga di Dragon Ball, per quanto riguarda l'anime. che spesso ha costruito ilكمo. Scusate. 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 ... ... ... ... ... ... peccato per questa fissazione del dovere uccidere Goku però quella scena che ci ricordiamo tutti in cui c'è Gohan lui che muore vabbè bellissima bellissima è inutile che la sto qui a dire perché tanto la conosciamo tutti ed è inutile che io continui a parlare come se non aveste mai visto Dragon Ball perché penso che ormai anche mia nonna ha visto Dragon Ball in cemento della salute sconfiggi quei rimelvaci Cell prima trasformazione non è un problema l'altro c'è la nostra di merito lo stesso l'impossibilità se è No, non ho sbaglio sempre. Ma perché c'ha così tante barre di salute lui? Ah, non posso caricare la... cosa? Oh no! Oh no! Madonna, il bastardo! Oh no! 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 Schiatta! Eh, i miei coglioni! Assorbito! Scherzo! No, non scherzo! Dico davvero! Eh... Allora... Andiamo subito alla missione in cui dovrebbe darci la sfera del drago. Vinci contro nemici forti e potenziali dal massimo. Giocatore inizia modalità alta tensione. Tra l'altro mi metterei anche... Questo. Contro Cell. Perfetto. Ma non ha la massima potenza. Behzzi. Non c'è nessuna passina. Dudi. Detta quello che mi ha avuto. Non c'è nessuna posizione. Inoltre. T'asservino, ci sia una posizione personalità. Mamma mia Mamma mia ragazzi Al pelo Allora Con quanti colpi riesce a sconfiggere il nemico La persona diventa più forte E' un po' di salute Ehm Procediamo di qua Allora Giocatore perde costantemente salute Vorrei evitare Madonna mia E niente Perdo salute E' un po' di salute E' un po' di salute Perfetto Zombo Ah abbiamo subito disponibile quella lì Danno impatto Vediamo un po' in cosa consiste Conclui la battaglia prima che si servisca animo furioso Come faccio che sono due Devo Devo subito poi cambiare personaggio Scusate ho skippato tutto Cominciamo già la grande E' un po' di salute La phải Perfetto E' un po' di saluto Perfetto E' un po' di saluto Ma E' un po' di saluto E' un po' di là Grazie per la visione! 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 E' un po' di rompere i coglioni! Grazie per la visione! Poi, non è finita qui, è quello che è bello, siamo ancora il primo personaggio! Ehm... Dopo... Verso iniziamo dell'animo furioso... Ok... Ehm... Ma che è? Ma che fa? Ma sei ristunnato! Perchè? Sempre... Madonna che mira di merda o... Ehm... 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 Mamma mia... Ci siamo cavata proprio per un pelo qui... Mamma mia... Poi, con quanti colpi ci sono sconfiggio il nemico, vediamo... Non c'è nessuno... Non c'è nessuno... Ascensioni... Segui... Il fatto che... Ora... Il fatto che... ... in questo modo... C'è nessuno... C'è nessuno... C'è nessuno... Non c'è nessuno... ho sbagliato tutto vai eppure questa l'abbiamo fatta ne manca una quella dei cell junior che in che tortura che tortura veramente sì è rimasta questa ok c'è la difficoltà dell'avversario cambia dopo ci aumenta dopo un cambio k.o. quindi più ne sconfiggiamo più saranno difficili sono qui sono qui sono qui Grazie per la visione! 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 Androidi, giustamente... Grazie per la visione! Oh no, quanto fanno male! Quanto fanno male ste palle! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Oh, barriere androide! Grazie per la visione! Ok, grazie per la visione! 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 No vabbè, le schiva tutte e due! Cioè, incredibile sta cosa eh! Però ce l'abbiamo fatta! Andiamo a prendere la sfera del drago! Il giocatore perde costantemente salute! No! Grazie per la visione! Non mi sapevo che sia un'esercita di maniera... Non mi sapeva di non essere un'esercita di maniera del drago! Non mi sapeva di non essere un'esercita di maniera! Niente, perdo comunque la vita! No! Grazie a tutti. 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 Minchia. Grazie a tutti. Mamma mia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E via. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cazzo. Grazie a tutti. e... Ok. Ok. Grazie a tutti. , Grazie a tutti. Minchia. Lattante. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aiuto. , grazie a tutti. , grazie a tutti. , grazie a tutti. Grazie a tutti. , 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 grazie a tutti.